5.000 anni di storia ebraica. Proprio come il popolo ebraico, è una storia che abbraccia il mondo. L'arte magnifica e gli oggetti cerimoniali creati dagli ebrei riflettono la portata del loro viaggio. 6.000 anni di storia ebraico. Brioso e colorato, il calendario offre un assaggio della straordinaria ricchezza della tradizione ebraica di cui Joel crea qualcosa di completamente nuovo. Un'arte vivace, in movimento, che unisce passato e presente. Il processo artistico si sviluppa a Milano, dalla ricerca di ispirazioni fino alla cultura in forma. Ogni ceramica viene fotografata per diventare una delle 16 immagini del calendario. Vivace, estruoso, profondamente radicato nella tradizione, eppure totalmente nuovo. È proprio ora del calendario ebraico d'arte di Joel Itmar. Grazie. 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 Grazie.